Allora, abbiamo cercato Noiega, perché tocca a Paul Brindisi a sticazzo le cento dioni che manca negli Stati. E che tocca affrontare tutti insieme, tutti uniti, perché tutti gli azioni sono anche qui. E che tocca a Paul Brindisi, Carlo Poggi Negro di merda! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!